Arrivano i primi segnali di solidarietà a Stefano Mandelli, il membro del CDA di AMSA dimessosi in segno di protesta per le scelte della Giunta in materia di matrimoni e unioni civili. A Mandelli non è piaciuto il logo, due cuori con il papillon, che a suo modo di vedere sono un chiaro ammiccamento al mondo gay. Secondo il dimissionario una scelta imposta dall'amministrazione, ma che rappresenta quantomeno un errore dal punto di vista commerciale. Si rivolge solamente ad una nicchia, ha detto l'ormai ex membro del CDA di AMSA. Ad intervenire è il gruppo consigliare provinciale d'opposizione, Civica Trentina. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Stefano Mandelli, rappresentante di Civica Trentina per l'Alto Garda, che non riconoscendosi nella politica sulle unioni civili, dettata ad AMSA dalla Giunta Comunale di Arco, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d'amministrazione. A partire ovviamente dalla famiglia naturale, irrisa dal tipo di promozione che il Comune di Arco porta avanti per i matrimoni e per le unioni civili. Sulla questione è intervenuto anche il Sindaco di Arco, Alessandro Betta. Non mi sono occupato direttamente del logo di Wedding in Arco, progetto che è stato seguito direttamente dal Vice Sindaco Stefano Bresciani, ma posso dire che non c'è da parte dell'amministrazione alcuna impronta ideologica. Arco è una città accogliente. Pare che i contrasti sul logo fossero arrivati anche in Giunta Comunale. Avevamo detto al Vice Sindaco di cercare una mediazione, evidentemente non è stata trovata, spiega Betta. Capisco che qualcuno possa trovarci un riferimento al mondo omosessuale, ma a mio parere, prosegue il primo cittadino, non c'è assolutamente nulla a divulgare. Se poi vogliamo guardare la cosa dal punto di vista della visibilità, conclude con tono scherzoso il Sindaco, abbiamo fatto centro.